Le vaccinazioni non si fermano neppure il giorno di Natale in Gran Bretagna. Migliaia di persone hanno ricevuto la terza dose questo sabato, mentre i nuovi casi hanno raggiunto un nuovo record giornaliero di oltre 122.000. Stadi sportivi e cattedrali sono stati riconvertiti a centri vaccinali e anche nelle farmacie l'immunizzazione continua senza sosta. Ho pensato che oggi sarebbe stato abbastanza tranquillo e avevo ragione, c'era solo una persona davanti a me in coda. Volevo il mio richiamo ed eccomi qui. Natale sottotono anche per gli olandesi, per via della stretta decisa dal governo per porre un freno al boom di infezioni. Negozi e attività non essenziali rimarranno chiusi fino al 14 gennaio, mentre in ogni casa si possono ospitare non più di quattro persone. Stiamo festeggiando, soprattutto incontrando gli amici, ma non troppi non è possibile in questi giorni, altrimenti usciamo per una passeggiata. Vediamo la gente restando a distanza ed è tutto molto tranquillo, dice questo signore dell'aria. Omicron è intanto divenuta dominante in Portogallo, dove sabato sono state registrate 10.000 nuove infezioni. Il nuovo ceppo copre ormai il 60% dei casi Covid nel paese. Il governo ha ordinato la chiusura di bar e discoteche fino al 9 gennaio, rendendo obbligatorio il telelavoro. Limitate a 10 persone, anche i raduni all'aperto. E a Barcellona migliaia di persone hanno manifestato contro le restrizioni festive in Catalogna. Tra le misure, il coprifuoco notturno dall'1 alle 6 del mattino, il limite di 10 persone per le riunioni sociali e la chiusura dei locali notturni.